ora vediamo il secondo sito il secondo lato posteriore con la parte protesica relativa per farvi vedere che la stessa tecnica chirurgica viene usata anche qui è preso rosissimo questa è la situazione in cui vi dicevano qui si rischia di uccidere il paziente per l'arteria palatina se volete fare un assottigliamento ideale dell'embo palatina sottigliato in una situazione di tali per atrofia dei tessuti molli parabola ossa perché ce n'era solo una di parabola ossa che era la radice distale ora devo accentuare la radice mesiale per creare se no c'è troppa disarmonia fra la doppia parabola della pari della radice distale chiaro che la radice distale avrei voluto avere una minore parabola ossa distale ma purtroppo questo è l'effetto della perte di osso che c'era stata sulla radice distale ora uso lo spigolo come al solito e consumo vi devo dire che questa cosa non so se qualcuno di voi fa chirurgia resettiva così in maniera diciamo standardizzata ma la definizione delle parabole osse prima di incontrare questo angolo della questo angolo della fresa era veramente una roba si andava di palla scalpello palla scalpello palla scalpello ma vent'anni e quindi nessuno la faceva in realtà